bello a tutti forniters benvenuti su leontube eccoci qui in questo video per affrontare la missione lancia una clombacca entro 10 metri da un clombo allora qui in questa zona della mappa qua giù nel laghetto potete sempre trovare un clombo e da queste parti si trovano anche le clombacche ora non ci resta che cercarle si vedono bene perché sono azzurre celesti vediamo un po dove che sono adesso non mi ricordo il punto preciso intanto là c'è una trivella clombacche belle azzurre dov'è che sono comunque sono da queste parti ok qui non ci sono ora intanto dovrei anche armarmi ecco potrebbero essere qua vicino a evan il nuovo personaggio intanto apriamo la cassa ecco qua le possiamo comprare anche da evan quindi noi le compriamo quante ne aveva ok solo quattro allora va da queste parti eccole eccole qui le vedete con queste ne abbiamo un bel po' possiamo tenerne fino a 15 e ora andiamo a ricercare il clombo ovvio che le clombacche vi danno anche energia vedete lo scudo e questa delle clombacche è anche una nuova visione degli incarichi pie la vediamo giù in fondo ogni 5 clombacche ci danno 8000 punti esperienza allora andiamo a ricercarlo che lui più o meno è sempre qui in questa zona eccolo là ora gliene diamo la bellezza di 15 le scarichiamo tutte quante lui devora ogni cosa trova una bella musica pacifica nooo sbagliato ecco l'ho già lanciata quindi la missione era lanciarla vedete come corre perché c'è un clombacche ma che ottissimo ecco qua la missione l'avete vista se il video vi è venuto un bel mi piace condividete con i vostri amici e se volete iscrivetevi al nostro canale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti